L'ambiente isolano, questo sconosciuto ai più probabilmente, Presidente Mazzara, un momento d'insieme tra le varie associazioni per fare quadrato e per tentare di capire qual è il progetto unitario da proporre, semmai a chi di dovere, rispetto ad uno sviluppo concreto del nostro territorio più volte violato e abbiamo gli esempi lì a Casamiccio. Penso che sia arrivato il momento di riunire le associazioni ambientaliste intorno ad un tavolo che sia in grado di coordinarsi e di agire di concerto. Con l'assistenza anche di avvocati e di professionisti che ci possono permettere di arrivare a dei risultati concreti. Perché l'incontro di stasera? Uno dicevo per dare supporto a questi interventi giudiziari e l'altro per, almeno lo scopo è quello di creare un coordinamento di tutte queste associazioni per evitare che ogni associazione domani mattina si sveglia e dice la sua, quell'altro dice l'altro, magari in contraddizione, eccetera. Quindi creare un coordinamento, sollecitare un tavolo comune fra tutte e sei le amministrazioni, visto che il comune è unico, nessuno, gran parte non lo voglia, creare un tavolo comune fra le istituzioni comunali, città metropolitana e regione e tentare di salvare il salvabile, ce n'è parecchio.